Mi chiamo Alessandra Angelini, sono nata a Parma nel 1953. Sono artista e insegno grafica d'arte all'Accademia di Belle Arte di Brera. Da numerosi anni abito e ho il mio atelier in un paese nella campagna tra Milano e Pavia. È stata una scelta. Un giorno decisi che per lavorare al meglio avevo bisogno di lasciare la città e trovare un luogo immerso nella natura e soprattutto nel silenzio e così scelsi di trasferirmi in campagna. Questo non mi impedisce di muovermi, raggiungere Milano, Pavia, le città vicine e viaggiare. Ho viaggiato molto in Italia e all'estero e mi auguro di poterlo fare anche in futuro. Il contatto con gli altri luoghi, altre persone, altre culture è fondamentale, apre la mente e ci fa sentire più buoni, ci aiuta ad amare e apprezzare il prossimo, anche se diverso da noi. La mia infanzia. Ho iniziato a disegnare all'età di quattro anni e da allora non ho più smesso. Non frequentavo l'asilo, stavo in casa con i miei genitori. Ricordo che trasformai uno sgabello in un tavolo di lavoro e posizionata sotto la scrivania di mio padre, che era ingegnere, lavorava dei progetti, disegnavo tutto il giorno. Tutt'ora ho presente la mia mano che tracciava segni rapidi su piccoli pezzi di carta bianca che a fine giornata si trasformavano in montagne di schizzi. Il nonno materno mi portava, nelle giornate di sole, a fare lunghe passeggiate in campagna e mi insegnava a osservare la natura, a disegnare la prospettiva dei campi e a creare piccole sculture con la creta presa dal fiume. A dieci anni, dissi a mio padre che da grande avrei voluto fare la pittrice e lui, che mi amava profondamente e si preoccupava per il mio futuro, ebbe il primo gesto di rifiuto secco e deciso nei miei confronti. Non se ne parla neanche, fare l'artista non offre una vita sicura, soprattutto per una donna. Non tenne in alcun conto questo suo diktat e continuai a creare, a disegnare, a dipingere. Dopo il licio classico, ormai al terzo anno di filosofia, rinunciai agli studi e mi iscrisse all'Accademia di Brera, dove ora insegno. Alla fine degli anni settanta ho sposato Federico, cittadino svizzero, e ho acquisito la cittadinanza elvetica, conservando quella italiana, ed entrando a far parte di quello che fino da piccolo chiamavo il paese delle fate. Ho molto amato la Svizzera e l'amo tuttora per la sua natura meravigliosa e per le sue persone così precise e al contempo sognatrici. In Svizzera ho anche insegnato e con amici svizzeri ho creato molte opere e partecipato a numerose esposizioni. Dalla mia unione con Federico è nato Leopoldo che mi ha regalato un meraviglioso nipotino. Ho insistito sulla mia infanzia e prima giovinezza perché ritengo che le esperienze e le cose che si vedono e che si sperimentano da bambini siano fondamentali e creino in noi modelli interiori che ci accompagnano tutta la vita. Da piccola ho visto tanta bellezza nella natura, nell'amore delle persone che mi circondavano e nelle cose, negli oggetti del quotidiano e non li ho più dimenticati. La mia immaginazione si è formata e sviluppata su queste emozioni. Oggi faccio arte pensando alla qualità della vita delle persone che mi circondano. Ho visioni sognanti, forti e colorate e le trasmetto nei miei lavori. Sono convinta che questo vedere positivo possa aiutare anche altre persone a vivere meglio e a porsi in un rapporto più positivo con il mondo e con gli altri. Credo nella conservazione della natura. Abbiamo un piccolo mondo a disposizione e non dobbiamo distruggerlo. Siamo tutti fratelli su questa terra, uomini, animali, piante e tutto il resto. Nessun essere vivente ha più diritto di un altro una vita serena e dignitosa. Dal mio punto di vista la parola uomo si identifica con essere vivente, non indica un genere piuttosto che un altro. Non ci sono e non ci devono essere differenze di opportunità e trattamento tra i sessi, ma è fantastico che il mondo sia popolato da esseri diversi tra loro che si armonizzano a vicenda. Grazie.